La battuta al salto, media, riceve Kalinin, granchina, centro, au, no, è buona, è buona, il pallone è in campo, sulla linea si chiude il primo set con un velo di amarezza perché l'acqua paradiso se l'è giocata con il punteggio di 25 a 23, 1-7-0 Mosca. Riceve Rossini bene, questa è buona, combinazione con Colte che chiude ed eccolo qua, eccolo qua, il punto che riapre il match, un set pari. De Cecco in prima linea, non ha fatto ancora un tocco dall'altra parte, stai attento, palla per Gruklov, la ricezione, De Cecco Pipe per Nikic. Nikic, Milos, Nikic, 25 a 22, due set a uno contro la Dinamo di Mosca, l'acqua paradiso c'è. Coppacev, Forni batte per vincere la partita, granchine, palla a filo, il pallone rimane di qua, il palleggio nella metà campo dell'acqua paradiso, ancora recupera Buti, palla per Nikic, recupera ancora granchine, il pallone della seconda linea, il muro! Di De Cecco! 15-12 per l'acqua paradiso, Monza Brianza che vince, vince la semifinale di andata della Coppacev. 24-22, è il secondo set point, Pavlov, la ricezione brutta, Rossini difende, fa l'alta, Gavotto può chiudere, pallone che se ne va via nel primo set in cassaforte per l'acqua paradiso, che si pone 25 a 22, un set a zero, acqua paradiso, Monza Brianza. Battuta per Conte, la ricezione, granchine, palla dietro, Kalini, ne palla di là, Pavlov, granchine, ancora Pavlov che mette palla a terra e si chiude il match con il punteggio di 25 a 22, il set, dunque la prima parte direi del match 3 a 1, si va al golden set. Conte in battuta, una delle battute più importanti della sua carriera, batte salto flotte, riceve male, Mosca palla per Pavlov, la difesa dell'acqua paradiso, attenzione, Nikic a banda, Tocca, non tocca il muro russo, l'errore di Nikic in attacco, chiude questa partita, l'errore di Nikic in attacco, chiude questa partita, dunque vince la Dinamo di Mosca con il punteggio di 15 a 13. negativo trimestre, Grazie a tutti